Squadra giovane, da un certo punto di vista da verificare se c'era bisogno di dare una risposta, oggi è arrivata una molto positiva per atteggiamento, attitudine, fame, voglia. Sì, è una delle nostre prime prerogative, è la prima, che deve essere questa, per evitare un po' di partite, a tenere il ritmo alto, poi crescendo in campo e poi abbiamo cinque campi che vanno sfruttati nel migliore dei modi. Tutti bene, però i due davanti hanno fatto tre gol in un momento dell'alto, l'ultimo di Vlaovic una meraviglia. Hanno fatto tre gol importanti, belli e direttamente bene, ma soprattutto cominciano a giocare bene. Come ha visto la Lazio? Ritiene che la squadra bianco celeste possa essere un'avversaria della Juventus per gli obiettivi che ha la Juventus in questa stagione? La Lazio è una squadra forte, una squadra tecnica, siamo stati molto bravi noi a chiudere tutti i passaggi dove loro un paio di volte ci sono andati dentro, quindi è una squadra che ci ritroveremo lì a lottare per la scena. Grazie al silenzio stampa, lei ha accarpito qualcosa negli spogliatoi, le motivazioni per qualcosa che è successo, forse per una protesta? No, assolutamente no. Grazie.